sai una cosa non ha mai detto se è sposato dovrebbe uscire con mia madre sai il suo ultimo fidanzato era un un pervertito del web lei è molto molto fragile tipo oh salvami gli uomini amano queste cose alla fine vogliono fare la parte degli eroi tutti vogliono sentirsi importanti e non conta quanto siano importanti ci sarà sempre qualcuno che è più importante la gente è così preoccupata no sono migliori di me nel senso non si rendono conto che l'importanza è la sicurezza la persona più sicura di sé vince sempre non importa se è reale non importa se sbrodola solo per l'occasione il popolo non sa distinguere sai una cosa le dirò la vera ragione per cui sto pranzando con lei ecco vede io il fatto è che non ho dei veri amici al momento e per essere del tutto onesta non sono interessata per niente ad averne la mia generazione si basa su persone che danno fiato alla bocca gli viene un attacco se gli toglie il telefono non sanno comunicare senza emoticon e credono davvero che il mondo voglia sapere che stanno addentando un taco punto esclamativo doppia faccina sorridente ma a noi che ce ne fotte sa sono una donna d'altri tempi adoro la vecchia musica le vecchie pellicole addirittura i vecchi pensi un po' cioè per farla breve io non ho niente in comune con i miei coetanei e loro non ce l'hanno con me e loro non ce l'hanno con me